A gente che mi vede e mi sa via, mi guarda mi faccia e rire, rire e passa. Le viene a mente una commedia mia, se ricorda che è comica e se spassa. Redite per cent'anni. Solamente voglio dire per scrupolo e coscienza. Io scrivo fatte comiche da gente e a rire trovate convenienza? Non credo. Grazie a tutti.